Buongiorno, sono Cagalli Tiziano, cofondatore di PlayOption. Noi siamo specializzati nel trading di opzioni. Con la nostra, tramite la nostra controllata, Fiverox Capital, noi abbiamo ideato e stiamo gestendo un sistema automatizzato, fatto con il nostro software, B-Trader, per strategie in opzioni. Sono strategie in opzioni che hanno una caratteristica, sono dinamiche, cioè sono strategie che vengono modificate nel caso in cui il trend vada nella direzione contraria a quella che è stato lo studio che ha permesso di mettere a mercato la strategia medesima. Questa che vi vedete è l'equity del risultato che noi abbiamo avuto, sono punti settimanali, dal 2014, il momento in cui è iniziato il servizio. Questo spike che vedete rappresenta il brusco movimento di sottostanti che c'è stato nel periodo del Covid e quindi, come vedete, non è al contrario come si pensa, ma è riuscito a portare più guadagno perché appunto le strategie in opzioni si privilegiano la volatilità. è aumentata la volatilità anziché la direzione e quindi abbiamo portato a casa dei valori molto migliori, tant'è che addirittura questi sono i 10 migliori risultati di quest'anno, quindi vengono aggiornati e si aggiornano sempre, con un'unica strategia che aveva un massimo rischio di 200 euro, dollari scusate, si è riusciti a portare a casa 18.900 dollari di gain, 17.470 con 250 e via, questi sono numeri eccezionali perché l'evento è stato eccezionale chiaramente, però quello che noi possiamo vedere è che se si entra nell'area, ci si registra sostanzialmente, ci si abbona, questo è un servizio su abbonamento, si entra nell'area e si vede questa schermata. Da questa schermata si va naturalmente quando sulla nostra mail arriva o è stata creata una nuova strategia oppure una strategia che hai sottoscritto è stata modificata e quindi in quel momento si va nell'interno di questa area, si sceglie o la strategia che si vuole fare o quella che si è fatta e che si vuole correggere e nell'interno appunto si vedono le varie strategie, come sono create, vedi, quindi come sono state create, quali sono le modifiche da fare sostanzialmente e si legge un po' con calma, poi si vede, è abbastanza semplice, poi da seguire. Quello che abbiamo fatto è che parte come cosa nuova è che tutte queste strategie partono da un sistema automatico, che tutte le strategie sono create nel sistema automatico. Bene, stiamo mettendo a punto, ed è partito proprio in questi giorni come sperimentazione, come vedete ci sono le cartelle che rappresentano i vari tipi di strategia, c'è la strategia premium, la strategia premium che cos'è? Sta iniziando a popolarsi, sono strategie che vengono composte, estrapolate dalla gestione patrimoniale che noi facciamo, abbiamo un fondo controllata Fiverox, un fondo che si chiama Fiverox Index, quotato sulla borsa del SIX di Zurigo, e estrapoliamo da lì alcune strategie. Le strategie, quelle che riteniamo che siano più facili da poter essere seguite. E su queste strategie, che cos'hanno di diverso dalle altre? Che quelle altre sono strategie calcolate con degli algoritmi e gestite da degli algoritmi, quindi tutto in modo automatico, queste invece sono strategie che vengono fatte a mano, manualmente. Quindi sono strategie manuali sostanzialmente. Quindi fatte e gestite dai nostri trader. Tutta la macchina organizzativa, quindi la parte importante di oggi è questa, però già che ci siamo vi faccio vedere tutta la macchina che gestisce tutti i trading system automatici che abbiamo, quindi tutte le strategie automatiche che abbiamo. Come vedete ce ne sono, che scadono il 15, sono queste, sono solo 5 strategie, e stanno realizzando in questo momento, Atenau, vedete, 5.926 euro-dollari, insomma dipende perché qui c'è un po' di euro e un po' di dollari. E queste strategie sono state, alcune sono state chiuse proprio oggi, queste tre qua, poi ce ne sono quelle che scadono il 22, e come potete vedere sia che siano bullish e sia che siano bearish, vedete, quindi sia rialziste che ribalziste, stanno comunque guadagnando in totale 8.500 euro-dollari come al solito. Questo per dirvi cosa? Per dirvi che appunto sono strategie che vengono modificate in modo automatico, quindi non è detto che prendendo una direzione, se poi il sottostante va nella direzione sbagliata, si vada in perdita, perché possono essere modificate, ce ne sono alcune naturalmente in perdita, se no sarebbe un bancomat, però in totale, così è stato dal 2014 e così è oggi che vi faccio vedere, il totale delle strategie è sempre in positivo. La strategia nuova che è stata messa a mercato oggi è la strategia premium, appunto nella sezione premium. Questa sarà una strategia gestita, messa a mercato oggi, vedete, i giorni trascorsi sono zero, quindi è stata messa a mercato sul nostro fondo oggi, dal fondo è stata portata su questo servizio di strategie operative e parte così. La quantità che noi proponiamo è sempre quantità 1, anche se magari sul fondo le quantità sono dei multipli, quindi noi la mettiamo in quantità 1, in modo che poi sia il trader che decide, in base al suo profilo di rischio, quale sarà la quantità che vuole mettere a disposizione. Questa strategia parte così, dura 22 giorni, non è detto che finisca in questo modo, ma potrebbe essere modificata. Bene, questa era la notizia, questa era la notizia importante che volevo darvi per oggi. Quindi, servizi di strategie dinamiche in opzioni, quasi tutte, il 98% strategie gestite in modo automatico del software B-Trader, che è un software che potete avere anche voi per farvi le vostre strategie in opzioni, si chiama B-Trader, di pre-option, e tra queste strategie gestite in automatico ce ne saranno alcune nella sezione premium, appunto, che vengono gestite manualmente dai trader. Grazie per l'attenzione, alla prossima.